ti faresti operare al cuore da un dentista ma il cuore lo dobbiamo controllare è importante idea geniale gli facciamo dare uno sguardo da un bravissimo neurologo magari ogni tanto da un ottimo torino che so da uno psichiatra e poi facciamo fare una bella relazione dal medico curante no, è perfetto ma un cardiologo no? grazie 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 grazie